Ciao a tutti, sono Manica Tursi, make-up artist, estetista e onico-tecnica. Alcuni di voi già mi conosceranno, altri magari no. Oggi è il 23 dicembre 2021, scusatemi, viene da ridere perché ho la mia gatta sul tavolo che fa la curiosona, Maria Impiccetta, ecco, penso che la vediate. Ok, dicevo, oggi è il 23 dicembre 2021 e visto che ho ricevuto un pacco da Avon, Avon Italia, volevo fare uno spacchettamento con voi, visto che è il giorno prima della vigilia di Natale. Guardate che mega paccone che mi è arrivato e Maria Impiccetta sicuramente vorrà entrare dentro il cartone, scusatemi, viene da ridere. Prima di iniziare questo spacchettamento con voi e vedere quali siano i prodotti che mi sono arrivati da Avon, voglio fare un ringraziamento speciale, anzi 192 ringraziamenti alle persone che si sono iscritte al mio canale nell'arco di questi mesi. Questo canale è stato aperto dal mio compagno qualche mese fa, quando ancora stavo facendo, mi stavo sottoponendo alle terapie oncologiche. Ho aperto questo canale affinché io non avessi la mente impegnata, affinché mi impegnassi in quello che ho fatto in 25 anni della mia vita. Ho aperto questo canale affinché mi distraessi. Ho iniziato a girare i primi video, terribili se li vado a vedere, perché a parte non mi vedevo in salute, avevo questi capelli a spazzola, cioè mi vedevo orrenda, e per me è stato anche molto difficile iniziare a girare i primi tutorial, non ve lo nego. Però piano piano mi sono appassionata, mi sono divertita tanto a girare i video, ho imparato tante cose nell'editare i video. Abbiamo passato io e il mio compagno tante belle giornate faticose, perché è faticoso creare un video, montarlo, postarlo, cioè comunque è un lavoro che prende tante ore. Quindi io non do per scontato il fatto che 192 persone tutt'oggi si siano iscritte a questo canale, ciò significa che sono riuscita a trasmettere qualcosa, che molte persone abbiano trovato interessanti i contenuti dei video, quindi vi ringrazio dal profondo del cuore. Detto questo, iniziamo subito e vi faccio vedere cosa mi è arrivata in questa box. Vi dico subito che ho spacchettato già tutto, perché ogni prodotto aveva il suo involucro di cartone, e poi c'è un prodotto soprattutto che mi è arrivato, l'ho dovuto spacchettare perché era un po' complicato ad aprire. Quindi partiamo subito. I primi due prodotti che vi faccio vedere è il fondotinta Serum Foundation con SPF 30. Io ho preso due fondotinta a 14,90€. Tenete conto che c'era l'offerta in questa campagna di dicembre, perché uno di questi fondotinta mi sembra che stia intorno alle 9,90€, quindi due li ho pagati 14,90€ e ho approfittato subito dell'offerta. Li ho presi nella colorazione Warm Ivory e Nude. Sono due fondotinta dal sottotono dorato, perché il mio sottotono di pelle è tendenzialmente dorato. È un fondotinta idratante, adattissimo anche per pelli mature, e soprattutto il fatto che abbia un fattore di protezione solare 30 è fantastico. Fantastico perché è importantissimo proteggere la pelle sia l'estate che l'inverno dai raggi solari. Allora, un altro prodotto che ho acquistato è lo shampoo della linea Advanced Technique, ed è lo shampoo per dare luminosità ai capelli. Io avevo già preso il mese scorso un set in cui c'era uno di questi shampoo, ed era, mi sembra, coloristrutturante, in cui c'era balsamo e siero. È ancora presente l'offerta in questo mese, e mi sembra che tre prodotti io li abbia pagati intorno alle 9,90€. Stavolta mi serviva solamente lo shampoo, perché per quanto riguarda il balsamo e la crema, la maschera ancora ne ho abbastanza, quindi ho preferito prendere solamente lo shampoo, l'ho pagato 3,50€. Calcolate che la quantità è di 400ml. Un altro prodotto, anzi due prodotti che ho preso in offerta, sono i doccia schiuma. Questi qui normalmente costano 2,50€ l'uno, e la quantità è di 250ml. Io ne ho presi due perché in questo mese c'era l'offerta di 3,90€ due doccia schiuma. Non è solamente l'offerta per quanto riguarda due doccia schiuma, perché potete prendere il doccia schiuma o il sapone liquido per le mani, oppure lo spray per il corpo. Quindi due prodotti a 3,90€ per questo mese ancora, per questo mese di dicembre. Io le ho presi nella fragranza pesca e vaniglia, perché adoro questa profumazione. Allora, il prodotto che ho acquistato, proprio cult, clou di questo video, è il calendario dell'avvento da 12 pezzi. Questo calendario, fino a qualche settimana fa, veniva a 29,99€. Io l'ho pagato 17,99€ perché Avon ce lo sta mettendo in offerta fino al 30 di dicembre. Non mi importava aprire le caselle dalla prima fino alla dodicesima nei giorni di dicembre. L'ho preso perché praticamente pagandolo 17,99€ ogni pezzo mi viene a finire meno di 1,50€. E adesso vi farò vedere poi che prodotti ho trovato nel calendario. Calcolate che alcuni sono mini size e altri sono full size. Calcolate che i mini size sono 2, sono solamente 2 su 12 prodotti. E adesso vi dirò anche quanto costano singolarmente i prodotti per farvi capire che grande risparmio. Mi sembra che il valore totale a prezzo pieno di questo calendario fosse intorno alle 50€. Quindi una super super offertona. Vi faccio vedere subito i prodotti che ho trovato nelle 12 caselle. Parto subito con la prima casella in cui ho trovato una matita nera della linea Glimmer Stick Eye Liner e nella colorazione nera. È una matita automatica che io adoro perché odio temperare le matite perché è di sporco e è una cosa che mi dà proprio fastidio. Il secondo prodotto che ho trovato nel calendario dell'avvento è quest'acqua micellare, olio micellare per struccare i prodotti waterproof. Questo lo trovate in mini size da 50 ml. Sono quei prodotti in cui c'è la parte oleosa in alto e la parte acquosa sotto e poi va miscelato prima di utilizzarlo. Un altro prodotto che ho trovato è questo splendido Lip Gloss della linea Avon True nella colorazione Nude. Bellissimo, a parte che ha un'alta pigmentazione, coprenza e durata. Guardate che bello questo colore. Poi i nude sono i miei colori preferiti per quanto riguardano i lip gloss. Un altro prodottino che ho trovato in mini size è il Renewal Power Serum della linea Enew. Questo è uno dei prodotti più virali in rete ed è anche vincitore di tanti premi. È un siero al proteinolo, va utilizzato durante la vostra skin care mattutina e serale ed è un ottimo primer viso prima di applicare la base, prima di applicare la base del make-up. Un altro prodotto è questa bellissima maschera viso. È una maschera viso proprio color oro della linea Avon Planet Spa Radiance Ritual Liquid Gold Face Mask. Bellissima. Allora, uno dei prodotti che proprio non vedevo l'ora di provare è la nuova fragranza Avon Maxima Eau de Parfum. È una fragranza buonissima. Io ho trovato nel calendario la mini size da 10 ml comodissima da portare in borsetta. Un altro prodotto è questa bellissima crema a mani e il pack mi piace tantissimo perché mi ricorda i colori ad olio per dipingere. E fa sempre parte della linea Planet Spa Aromatherapy Beauty Sleep Wheat French Lavender, quindi con lavanda francese e con olio essenziale di camomilla. Anche questa è in mini size. Un altro prodottino che mi piace tantissimo e che non vedevo l'ora di provare è il mascara Euphoric. Guardate innanzitutto quanto è bello il pack in questa colorazione così metallizzata iridescente un po', no? Sui toni del verde, del rosato, del viola. Guardate quanto è bello poi lo scovolino. Lo scovolino è fatto a clessidram. Trovo che sia bellissimo questo mascara. Non vedo l'ora di utilizzarlo, di provarlo. Un altro super super prodotto uscito nella campagna precedente è il Lush Supreme Volume Primer ed è il primer per le ciglia. Questo prodotto fa da rinforzante nutriente e da primer per il vostro mascara. Aumenta notevolmente il volume delle vostre ciglia prima di applicare il vostro mascara. e non vedo l'ora di provare anche questo prodotto. Allora, un altro prodotto che ho trovato nel calendario dell'avvento è questo bellissimo rossetto matte. Guardate anche il pack quanto è bello. Nero, opaco e la colorazione è stupenda. A parte guardate il fatto del taglio di come si è tagliato questo rossetto così un po' a prisma, no? ricorda un pochino la forma del diamante. Bellissimo. La colorazione è stupenda proviamola subito. Guardate, guardate che meraviglia questo colore. La formulazione è molto molto cremosa. Poi io utilizzo già altri rossetti di Avon hanno una formulazione più cremosa rispetto a questo ma hanno una durata pazzesca. E poi ho trovato in altre due caselle due smalti. Uno è della linea Avon Gel Shine in una colorazione splendida. Questa colorazione ricorda un po' il color geranio. E poi quest'altro che fa parte della linea All-in-One BB Nail Color nella colorazione lilla. Un regalo che ho trovato nella box e che non mi aspettavo di ricevere è questa splendida borsa. Questa bellissima bag che potete tranquillamente utilizzare sia per la palestra che per il mare. e io la utilizzerò sicuramente durante il mio lavoro per portarmi diciamo tutto ciò di cui ho bisogno. Bellissima, bellissima. Grazie Avon. Splendida. E poi un'altra cosa che vi faccio vedere. Ho acquistato un set che poi utilizziamo normalmente noi consulenti. Un set di 40 campioncini tra fondotinta rossetti profumi. e con questo farà dei pacchettini da regalare poi alle mie clienti. Allora vi ho mostrato tutti i prodottini che mi sono arrivati da Avon. Spero tanto che vi siate divertiti. Se sì lasciatemi un like di supporto. Se vi va iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche. Oggi come dicevo prima è il 23 di dicembre. Non so se riuscirò a postare oggi questo video nei prossimi giorni. Però con questo colgo l'occasione per augurarvi uno splendido Natale. Speriamo che sia migliore di quello passato. Sicuramente perché avremo qualche restrizione in meno rispetto al Natale dell'anno scorso. E quindi il fatto di poter stare già con più persone deve solamente che riempirci di gioia. io vi auguro un buon Natale vi auguro di passare buone feste spero di vederci prima qui sul mio canale YouTube di Capodanno e vi mando un bacione. di capodanno di capodanno